Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta nel canale Arte Allegra. Quest'oggi realizziamo un contorno. Siamo in estate e quindi in questo periodo le zucchine la fanno da padrona. E questo contorno che io realizzo sono appunto con le zucchine. Ma prima la sigla! Come vi ho detto, oggi realizziamo questo contorno con le zucchine. Che ho raccolto dal mio orto. Si tratta infatti di piccole polpettine che credetemi sono morbidissime. E grazie all'utilizzo di un pizzico di noce moscata sono profumatissime. Credetevi i bambini li mangeranno volentieri. Poiché non immaginano lontanamente che dentro c'è la zucchina. Ma detto questo passiamo ad elencare gli ingredienti e quindi alla preparazione delle mie polpettine di zucchine fritte. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!